Nelle operazioni di soccorso la velocità e l'efficacia sono tutto, per questo il sistema di emergenza del 118 e il 115, ovvero i Vigili del Fuoco, hanno stabilito insieme le procedure operative per gli interventi congiunti in caso di emergenza, illustrate nella sede della Presidenza della Regione Toscana alla presenza dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. Il documento congiunto di 30 pagine è stato realizzato da un gruppo di lavoro formato da rappresentanti di 115 e 118 provenienti da tutto il territorio regionale, ma come migliorerà il servizio ai cittadini? Sicuramente attraverso un maggior coordinamento e una maggiore efficacia di un lavoro insieme che parte dalla condivisione di protocolli di intesa e di azione e da un lavoro formativo che insieme il personale del 118 e dei Vigili del Fuoco faranno per intervenire nel modo migliore e più coordinato su situazioni che spesso vedono coinvolti entrambi i corpi. Caso tipico di intervento congiunto di 115 e 118 è l'incidente stradale, ma le procedure comuni riguardano in modo più esteso la gestione delle sale operative, le operazioni su strada e le operazioni complesse come il coordinamento dei due elicotteri Drago e Pegaso e le macroemergenze. Obiettivo raggiungere la perfetta sincronizzazione tra gli operatori sul campo. Procedure congiunte significa una cosa molto semplice, che ciascuno dei due enti sa cosa fa l'altro. I due enti si parlano, quindi non ci sono tempi morti, non ci sono discrasie, tutto finalizzato ad un unico obiettivo, l'intervento immediato a chi ne ha necessità. Le procedure comuni riguardano anche le centrali operative del 118 e le sale operative del 115 per definire il migliore standard di intervista telefonica e ridurre così al minimo gli eventuali problemi durante le fasi del soccorso. Sono ispirate al principio di garantire il soccorso alle persone nei tempi minori possibili e nella maniera più efficiente ed efficace, minimizzando però tutti i rischi che possono presentarsi nelle situazioni di emergenza sia per l'utente e quindi sia per le persone coinvolte ma anche e soprattutto per i soccorritori. Prossimo passo, la formazione degli operatori che intervengono negli scenari di emergenza attraverso le procedure congiunte elaborate dal 118 e dal 115.